poeta e pittore inglese figlio d'arte rossetti porta significativamente il nome di dante unito a quello del padre gabriele che studiò appassionatamente la divina commedia e scrisse un commento dell'inferno numerose opere di dante gabriele sono dedicate al mondo dantesco a partire dal quadro dante sorpreso a disegnare un angelo che iniziò ad abbozzare nel 1849 l'opera rappresenta l'alighieri confortato dagli amici nell'anniversario della morte dell'amata nel 1848 dante gabriele rossetti fonda la fratellanza pre raffaellita un movimento pittorico volto a riscoprire la semplicità espressiva dei pittori che precedettero raffaello i riferimenti a dante contribuiscono a creare un sentimento religioso nostalgico del cristianesimo medievale la stessa attrazione per dante pervade un movimento affine ai pre raffaelliti i nazareni tedeschi che realizzano a roma un notevole ciclo di affreschi dedicato al poema dantesco joseph anton kock si concentra sulla raffigurazione dell'inferno mentre il suo compagno philippe fight nel soffitto rappresenta le scene del purgatorio e del paradiso direttamente connessa alla divina commedia è l'opera paolo e francesca da rimini che rappresenta in tre riquadri l'episodio dell'amore peccaminoso dei due cognati dante e virgilio che li osservano paolo e francesca abbracciati all'inferno la traduzione in inglese della vita nova pubblicata dalla rossetti nel 1861 fornisce l'ispirazione ad altre opere come il sogno di dante lo spunto per questa tela viene da un capitolo in cui dante sogna la morte di beatrice è un sogno premonitore perché la donna amata morirà dopo poco tempo le vicende biografiche del rossetti come il suicidio della moglie elisabeth sidle nel 1862 che lo gettò nello sconforto influenzano le sue opere dense e di emozioni fervore creativo glorie e depressioni numerosi ritratti femminili in abiti medievali come la donzella beata rimandano all'immagine dantesca della donna ideale le donne di rossetti sono ispirate alla poesia stilnovista italiana studiata e tradotta dal pittore nel dipinto l'amata un coro di donne sembra proteggere la figura centrale mentre nella ghirlandaia la donna è simbolo della bellezza della natura rossetti ama dipingere scene di vita dell'epoca dantesca come lo studiolo blu o il salotto sul prato in cui la sensibilità dello stil novo sembra assumere forma pittorica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti